Francesco Nuti mi propose di interpretare Io, Chiara e l'oscuro e io non so perché, non so per quale motivo, non voglio farlo il film con lui. Ancora oggi non sai perché. Hai provato mai a scavare per capire il motivo per cui hai detto di no? Non lo so. Forse perché Nuti allora non era conosciuto e cominciava allora anche lui perché è stato il suo primo film quindi lui veniva forse dal trio con... I Gian Cattivi. I Gian Cattivi, esatto. E non so, non lo so.